Una giornata speciale per l'aviazione e per il 34esimo squadrone Aves Toro di Venaria. Quest'oggi si festeggia la Madonna di Loreto, protettrice degli aviatori. Siamo con il tenente colonnello Corrado Motta. Il 10 dicembre si festeggia la Madonna di Loreto, che è la patrona di tutti gli aviatori. Questa patrona è stata scelta dal Papa Benedetto XV, che nel 1920 nominò la Beata Vergine Maria di Loreto la patrona di tutti gli aviatori. È chiaramente un'occasione per ricordare la Beata Vergine Maria, ma è anche un'occasione per ritrovarci tutti insieme e condividere quella che ci unisce, che è la passione per il volo. Chiaramente la festa la condividiamo con tutti quelli che nel territorio hanno questa passione, quindi non solo il personale e gli amici del 34esimo Toro, ma anche tutto il personale dell'aeronautica militare che è presente sul territorio con le loro associazioni combattentistiche d'arba. Grazie a tutti.